inclinazione a ogni gamba 50 questi sono colpi si e non stai mai in posto lavori poi cambia dal talone di nuovo da laterale lavori di nuovo e poi passi da direzione di testa e di nuovo lavora cazzo tranquillo 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 relax fai affondi profondi fai fai affondi fai fai tira bene gamba tira 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 no no solo tira gamba come per spagata si metisi gomito sinistra terra e avanti pian piano con calma calma non devi fare niente relaxati tu devi essere molto rilassato cambi gamba tira bene poi questo è passato da una gamba a altri ricordi tu devi vincere uno e tu sei campione italiano basta